Ciao a tutti amici, oggi prepareremo la maionese piccantissima, agliatissima. Allora, ingredienti, questo, olio, ne mettiamo 200, fino qui, 200 millilitri, un po' di più, ecco, poi un uovo, come i fanno i grandi chef, con una mano sola e senza sfocarsi neanche un litro. Poi, aceto, due, double spoon, sale, sale, non è, eccoci, tre pizzichi di sale, uno, due, poi, aglio, uno spicchio, due spicchi, meglio. Questa la sto facendo per dei alici fritte, specie di alici fritte, con questo nuovissimo coltello in ceramica Fabric Ware da 12 modi. tutti passano in sale, poi, ci metterò questo peperoncino, salsa peperoncino al chili, molto, molto piccante. e adesso siamo tutti pronti. a posto, finita. Guarda com'è venuta cremosa. Magica! Ci vorrebbe giusto una patata fritta da metterci sopra, per gustarlo al pieno. Scusca, passami una patata fritta. Scusca, gli è arrivato uno schizzetto. A posto, questi quanti. alla prossima! Allora, per il momento è tutto. Ciao, tutti! Ciao!